Sì, sono mascherine, semplici mascherine di jersey con l'elastico per le orecchie e bisogna dire che queste mascherine non difendono dalle infezioni. E' importante che la gente si renda conto che queste servono semplicemente per non diffondere, in modo che anche questa che ho addosso io, per non infettare il mio prossimo. Ma queste non ci difendono a noi da un eventuale contagio. Quindi è importante anche dare le istruzioni giuste perché è una tipologia diversa ovviamente. Cioè allora se è la cassiera del supermercato che deve essere protetta, la protezione ce l'ha nella persona che arriva alla cassa e che ha quella mascherina. Questo è importante dirlo. Non è la cassiera che tanto che deve avere questa mascherina perché la cassiera dovrebbe avere la mascherina che la protegge anche nella ricezione del contagio. Ecco, questo è molto importante. Il foglietto credo che sia l'istruzione. In ogni confezione è unito il foglietto di istruzioni che parla delle caratteristiche delle mascherine e del loro utilizzo e conservazione. E' importante leggerlo anche perché appunto c'è scritto che prima di usarle bisogna comunque lavarle. Si lavano a 60 gradi e con una soluzione di candigina e sono perfettamente sanificate. Possono essere lavate fino a 20 volte per cui per un paio di mesi una mascherina va benissimo.